Il sogno di una grande destra si infrange sul no dei polacchi, chi ne esce vincitrice Meloni. Non decolla il sogno salvignano della grande destra europea. Anzi, per ora si infrange sulla decisione dei polacchi del PIS, i sovranisti che esprimono il premier Moravieschi, di non aderire al gruppo unico che dovrebbe comprendere, fra gli altri, la Lega, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Fidesz di Viktor Orban. Il PIS resta con i conservatori europei, raggruppamento di cui fa parte Fratelli d'Italia che ha sempre frenato sull'iniziativa cara Matteo Salvini. I conservatori, infatti, hanno espresso ieri formalmente le candidature per il rinnovo delle cariche parlamentari di metà legislatura e per l'incarico di presidente è stato indicato proprio un rappresentante del partito nazionalista polacco, l'eurodeputato Cosma Zeta Lotoski. Non solo, i due attuali co-presidenti del gruppo, uno espressione dello stesso PIS, Riz Zardantoni Legutko, e uno di FDI, Raffaele Fitto, sono stati designati a braccetto per la conferma nei loro ruoli. Segno inequivocabile che, almeno fino ai prossimi mesi, i polacchi non approderanno su altri lidi e dunque non entreranno in un ipotetico gruppone della destra. D'altronde, un gruppo con i connotati disegnati da Salvini e Le Pen non può fare a meno né numericamente né strategicamente della componente polacca. 27 eurodeputati, la più numerosa di quest'area politica. Salvini, non a caso, ha annullato la partecipazione al vertice di Varsavia del fine settimana proprio perché perplesso rispetto ai tentennamenti dei polacchi rispetto al progetto della Panda estracontinentale. Il numero uno del carroccio, fino a qualche giorno fa, diceva che l'appuntamento di Varsavia sarebbe stata l'occasione per discutere di nuovi equilibri a Bruxelles. Il piano era quello di lanciare la nuova aggregazione di forze sovraniste, in vista di un'accelerazione parlamentare a dicembre. Piano saltato, per la soddisfazione di Giorgia Meloni e i suoi che hanno sempre visto con scetticismo questo progetto, anzi l'hanno letto come un atto ostile nei confronti di Fratelli d'Italia. La scomparsa del gruppo dei conservatori, infatti, avrebbe significato un colpo non indifferente per la principale forza della destra italiana, il secondo partito in assoluto nei sondaggi, basti pensare che Meloni è il presidente dei conservatori, ECR. Un esito figlio di una laboriosa trattativa dentro il gruppo di ECR, gli esponenti di FDI, confitto in testa, hanno prima blindato le forze minori, sono 18 i partiti rappresentati, di 15 paesi diversi, e poi hanno cucito la tela con i polacchi del PIS.